Oggi è finito il mio periodo di quarantena, ho deciso di uscire per rendermi conto di quale sia davvero la situazione in città e per invitare personalmente i miei concittadini a restare a casa. Devo dirvi che se molti di loro hanno compreso appieno la situazione emergenziale che stiamo vivendo, altri purtroppo la stanno ancora sottovalutando. Non voglio creare allarmismi, però voglio essere chiaro. Non crediate di essere immuni. Non crediate che a voi non possa succedere quello che purtroppo sta succedendo a molte persone non solo in Italia, ma in tutto il mondo. Vi prego, non dovete trovare una scusa, una giustificazione per uscire. Dovete trovare forza e motivazione per restare a casa. Quindi l'appello che vi faccio è fidatevi, restate a casa. Restate a casa il più possibile, soprattutto in questo periodo. Insieme, vedrete, ce la faremo.